La protesta onestamente è giusta, è legittima. Abbiamo un piccolo vantaggio come Università di Palermo e cioè che nella sessione di settembre di fatto è previsto soltanto un appello e quindi noi ricadiamo in quella casistica per cui se c'è soltanto un appello tutto sommato non può essere negata la presenza di un appello. Comunque vigileremo, staremo molto attenti, certamente se sarà necessario organizzeremo degli appelli straordinari, ci sono alcuni corsi di laurea nuovi. Quest'anno stiamo puntando in maniera significativa su Trapani, nel senso che su Trapani portiamo due nuovi corsi di laurea. Stiamo avviando questa nuova fase della internazionalizzazione, abbiamo dei corsi di laurea che sono uno nuovo, in particolare quello di gestione del turismo, ma anche degli altri che sono completamente in lingua inglese, nella logica di avere una reale attrattività nei confronti degli studenti stranieri. La cosa che interesserà a chi ci segue, le tasse diminuiscono? Allora, le tasse e la manovra l'abbiamo fatta a fine marzo, quindi le tasse sono già state stabilite. Globalmente noi abbiamo calcolato che per almeno i due terzi degli studenti le tasse realmente calano.